Buon lavoro innanzitutto, in un momento forse più complicato del nostro paese, dice bene la professoressa con estrazione di fisica, oggi i numeri nell'università non sono così negativi, sul mondo del lavoro sono molto negativi, molto negativi e io mi do una risposta al mio sioma che dicevo in un'intervista che oggi gli imprenditori sono come il panda, una razza in via d'estimizione, questa è una battuta sarcastica, anche caustica, ma è la verità, forse si capirà domani quanto l'impresa familiare, quanto l'impresa fatta di cluster alberghiere, l'impresa fatta da micro piccole situazioni è veramente il tessuto dell'Italia.